Gianluca Galassi una grande vittoria contro gli Stati Uniti, squadra forte, insomma 3-0, è stata una vittoria di testa visti i primi due set? Sì, è una vittoria di dettagli, anche di particolari, che ieri non ci sono venuti così bene, oggi invece magari con un po' più di attenzione è andata sicuramente meglio. È un risultato incredibile, è una cosa che volevamo tanto e siamo stati bravi ad andare a prendercela. Quanto pesa sulla vostra testa questa vittoria, oltre punti e classifica? Può pesare tanto, sinceramente non so quanti punti ci darà, ma sicuramente da quando io sono in nazionale non avevo ancora vinto con gli Stati Uniti, quindi è stata veramente qualcosa di speciale, importante per noi, per la nostra testa, ma soprattutto anche per la classifica del ranking. Tra pochissimo domani la partita con Cuba per continuare su questa scia? Sì, è un'altra partita importante con una nostra diretta avversaria, quindi cercheremo di mettere tutto l'impegno e tutta l'attenzione che abbiamo messo in questa partita per giocare un'altra partita come quella di oggi.